Ragazzi ragazzi sono tornato Traslogo finito Messo tutto a posto ormai da giorni Mentre sto facendo questo video Però non ho ancora il wifi Quindi non posso ancora caricare questo video Questo sarà il mio studio Studio? Va bene Che sarebbe una cabina armadio Però la uso come scrivania tipo E questo video vi farò vedere La casa Con la mia cameretta Che ancora devo mettere a posto Mentre guardo il wrestling Che schifo di qualità che ha sto telefono Bene 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 Stiamo al piano di sopra Questa casa ha due piani Questo è il cesso Cesso Con Che schifo Lavanderia Camera da letto Il mio terrazzino Andiamo al piano di sotto Entrata Il mio cane E il salotto L'altra parte del salotto Con un balcone che è grande Quanto il buco del culo Di un passero Un altro balcone Con le scale Di nuovo il mio cane Che è schifo di qualità E la cucina Con l'altro cesso E la doccia bella E l'altra doccia bella E il lucernario E sto gran cazzo che ce ne fotte E i miei manga e fumetti No ok A parte gli scherzi Appena volevo Wi-Fi Caricarò questo video E Il riassunto Vabbè I riassunti Perché oggi è uscito Il episodio 91 Di Dragon Ball E domenica Nel frattempo Guardate questo spinner Bello Torneranno Ovviamente Dovrò caricare I video I due video Di rassunti di Dragon Ball O tre Dipenderà poi Perché non so Quando apri Come fai Devo aspettare Almeno 20 giorni Quindi Ok Troia Quindi niente Ovviamente Caricarò anche altri video Diversi Siamo di Dragon Ball Perché sennò sti cazzi E noi Ci vediamo al prossimo video Ebbene ragazzi Io Mi rilasso così Porco Dio Dai Kiro Kiro Porco Dio Vincenzo Non cadere Non cadere Non cadere Ale Bella Iro e Pino Dio ci osserva Ero e Pino Ero e Pino Ero e Pino Ero e Pino Vincenzo Ero e Pino Vincenzo Questa